Salve, sono Marco della Black Traction e faccio dei prodotti innovativi e brevettati per rinnovare i materiali, in particolare la plastica. Ho deciso di fare questo video perché su YouTube ho visto molti video di improvvisati tecnici che fanno sembrare semplice rinnovare la plastica, ad esempio con un phon professionale scaldandola. Questo metodo è estremamente dannoso perché brucia il polimero superficiale della plastica, ha una brevissima durata d'effetto e non consente poi di intervenire più per rinnovarla. Bruciando la plastica non fanno altro che bruciare gli oli che conteneva e che sono fuoriusciti, per cui la impoveriscono e ne determinano un decadimento molto più veloce senza possibilità poi di rinnovarla. Questo metodo non è per niente economico perché quando la plastica è completamente rovinata poi non rimane altro che la sostituzione che comporta una spesa molto più onerosa. Black Traction RS invece ad esempio, assorbito dalla plastica, mantiene la tonalità di colore originale, quando decade l'effetto dopo molti mesi è possibile rinnovarlo ripetendo l'applicazione. Black Traction RS nero, arricchito però da un pigmento nero per uniformare le imperfezioni che ci possono essere sulle plastiche nere. È stato a coprire i danni fatti dai phon quando si scaldano le plastiche e le si danneggiano irreparabilmente.